musica 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 ciao Vets benvenuti in un nuovo episodio di Call of Duty Black Ops troviamo una bellissima partita speriamo mettiamo un cambiamo partita mettiamo un dominio tanto sono scarso come ve l'ho detto oh grid una mappa migliore non potevi darmela vero vabbè perché ho il microfono che scende ah madonna 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 ehm caricamento lungo come al solito magari adesso fa sposto fallito mettiamo la nostra dominio questa mettiamo una sensibilità di per 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 scratch spu no la c'è c'è giusto stiamo prendendo p porco dio il suo controllo subito così ma vaffanculo qua è vero andrebbero bene le sente ex aereo spira nemico in arrivo ho un fai di domande che parla che figlio di tuttana ok nevo piano in calma porco stiamo perdendoci anche posso il camper dai 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 ecco mi è andato a integrare una cucchia molto bene no ma va dai cazzo e il nome dove lo metti nel culo ho capito ma muori tutti con la doppia vita merda ma si ma se muoio sulle granate minchia ma muori ma te mi vuoi dire che cittone di merda sono questi un colpo un colpo eh si cazzo cazzo ti sei abbassato prima di sperarmi dal nulla così camper di merda come al solito abbiamo perso ma va finchè abbiamo una squadra del cazzo scleriamo ditemelo voi dai allora tu esce da qua me lo sento adesso lo colpisco gli scaravento mezza gamba scaravento che ok aereo spia nemico in arrivo sapete perchè? perchè c'è camper di merda capite c'è camper di merda semplice no? la cosa la cosa è molto semplice c'è i camper guardalo guardalo c'è basta non farlo più ecco perchè perdiamo perchè c'è i camper di merda e qua sto ancora qua guardalo guardalo mori mori cioè proprio mori fico solo questo ecco granata di merda vaffanculo ora un coso così ne becco uno vaffanculo si dai continuo continuo cioè partita più sclerata del mondo non è possibile cavolo eh si guardalo guardalo tutti i camper tutti i camper guarda sono tutti qua dentro me lo sento sono tutti qua sopra e si fanno le pippe ma muori ma muori c'è proprio muori sono qua me lo sento rcxt alleato in arrivo dai 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 vieni fuori vieni fuori dai su aereo spia nemico sopra di voi si adesso mi fanno un wall shot così ma vaffanculo mi sembro non mi ricordi neanche più come si fanno piazzare queste coppie sim v 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 così qualcuno e ma va, sono tutti la sentite che lo sto premendo abbiamo perso coltello merda ma va, sono tutti la stiamo anche vincendo soldi di uccisioni ormai ce li abbiamo tutte ma va non ho parole, non ho parole quanto sono terzo aereo spia nemico sopra di voi covra nemico diretto verso di voi camper lordo cazzeruola oh non c'è stata una una che non sia stata un uccisione senza un camper c'è o granate o camper basta, c'è ci sono solo queste guardate questi che camper sono là da tutta la partita ormai che camper di merda non ho parole raga non ho parole vaffanculo abbiamo perso, bravo si, si bravo bravi, bravi cani nemici in arrivo cani come ha fatto? come ha fatto? come ha fatto? ok camper d'accordo sono contento no, c'è proprio mi piace questa cosa partita di merda assoluta quanto sono terzo ancora cani ovunque cani vaffanculo adesso arrivano i cani merda SR-71 nemico in arrivo SR-71 nemico in arrivo SS che? Bombardamento napalm nemico in arrivo faffanculo arriva il tuo cieco di merda muori muori nooo il cane è là dietro nooo boh, non so cane merda, cane merda oh la almeno quelli li riuscivo guarda di qua, sono qua boh, stiamo prendendo alfa da se arrivo anch'io guttacane di merda oh ah si eh hai paura di me approvvigionamenti per il nemico in arrivo così due coltivo sopra di voi ah vai a quel paese ecco abbiamo tutte le bandiere merda tutte perse, perfetto ah a meno una non ho parole per questa che cacchio è che come ha fatto, come ha fatto, dai stiamo perdendo Charlie un cheater di merda assurdo oh, con l'arma d'oro lui, ci stanno schiacciando complimenti proprio, complimenti devo dirlo ci stanno schiacciando finchè non prendiamo le bandiere ci stanno schiacciando finchè non prendiamo le bandiere stiamo prendendo alfa va bene proprio ok la partita più bella di tutta la mia vita terzo così uno si arriva da dietro ma, ma che camper sono questi? questo qua si è solo camperare la vittoria è vicina non dobbiamo mollare per fortuna non sa che sto facendo video se no ma vaffanculo finalmente SR-71 nemico in arrivo ci stanno schiacciando conquistate gli obiettivi ci stanno schiacciando grazie al cazzo camperano come dei luridi questi non so se l'hai notato ma queste qua quante granate ha otto? ma non so eh non so non so stiamo prendendoci stiamo prendendo tua sorella capito? no? eh? perchè questa in otto! in otto! cosa fanno? camper no? in otto! ok camper di merda e questo lo dico veramente perchè non è possibile avere una partita in cui camperi e basta sei un lurido porco bloccato a terra ma va? aereo spia nemico sopra di voi vi sotto controllo si stanno recuperando si stanno recuperando a suon di bandiere alfa al sicuro dai dai dobbiamo recuperare c c è la nostra ultima possibilità e tu muori stronzo primo e anche tu ok ok non è possibile eeeh si anche tu eh madonna aereo spia pronto aereo spia alleato in arrivo vai 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 stiamo prendendoci secondo contenti? questo lavoro è stato apprezzato l'ho fatto alleluia madonna che camper madonna che camper madonna che camper non ce n'era uno che non faceva il camper cavolo buttatelo giù madonna 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 forse non mi avete neanche sentito ok madonna madonna mmm queste cose queste cose queste cose non devono accadere si lascia lascia ce n'è uno peggio dell'altro come camper cazzo lasciamo stare c'è la partita più sclerata che abbia mai fatto a call of duty e ce l'ho da due anni tre è bello che le faccio soltanto quando faccio video quindi al secondo video ho un camper che non era ho tutti i camper quello con otto granate ma vaffanculo ma vaffanculo ma per questo episodio di call of duty in cui mi sarei mangiato il joystick è tutto la dj ciao bezz